Il santo del giorno sono le sante Anastasia e Basilissa, sono due matrone romane nobili che si convertirono al cristianesimo e furono seguaci di Pietro e Paolo, seppellirono anche i loro cadaveri dopo il loro martirio e a loro volta subirono il martirio per opera di Nerone attorno al 68 d.C. Nerone scelse per loro la seguente formula, taglio della lingua e lenta morte in agonia, sempre stato creativo Nerone. Grazie a tutti!